si 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 è venerdì buongiorno buongiorno ecco il giorno che ci piace tanto si 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 è venerdì piaci sta t-shirt potere del fa domani non è brandizzato c'è il sito ma io non so comprare sull'e-commerce si mi dispiace te l'ho portata furbacchione fa il furbacchione e perché non me l'hai data guarda guarda che ti ho regalato tu perché chiacchieri chiacchieri sempre senza veramente io guarda guarda che ti ho regalato questo non stai reciclando se l'avevi ieri in testa vai guarda che ti ho regalato sta pieno per te c'ho guarda eh eccolo fazzoletto fazzoletto vai andrea com'è mamma mia con questa qua con la fionda me la tirano mattina c'è anche padre pio eccolo se c'era la minonna gli chiedeva la foto ve lo giuro cioè lei era super fan pronto o no eh buongiorno eh buongiorno non so cazzo buongiorno no è mezzogiorno buongiorno che stai a fare sto a capare le terrine per fare i spaghetti con che eh con che con le terrine che solito tutto bene eh io sto bene anch'io tutto come stai bene bene oggi andiamo a fare un'escursione andiamo a vedere le antilopi il cobra va bene va bene poi andiamo a vedere le giraffe la giraffa ah va bene poi andiamo a vedere andiamo a vedere il giaguaro andiamo a vedere il giaguaro no è vero va bene va bene tu l'hai mangiato i sfolli eh sto cazzo va a fare culo strozzo no ah no è pezzuto a me sto cazzo mi hai detto ma tu va bene va bene ti manco tanto va bene ci vediamo domenica va bene ciao 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 salutami i fogli sì sto cazzo stronzo ciao ciao che sei è volersi bene funziona così sarà bello ragazzi ma la montagna guardate che bello tra ruscelli oh guarda i piedi guarda che bello vabbè sta pieno ma che pecore oh guarda che si alza niente guarda che si alza guarda che si alza eccoci arrivati questo è il lago nambino l'unico lago con l'acqua salata non è vero ragazzi un po' di pesce di lago salmerino trota trota fluminata questo carpaccino sì e il salmerino formaggio di capra è una muta buonissimo comunque prima lo so che davanti c'erano le capre ma dietro c'erano le pecore quindi so distingue le capre dalle pecore più o meno mmm ecco ecco siamo dovuti rientrare dentro il rifugio perché sta nevicando ha nevicato pizzoccheri nevicati con doppia rinevicatura mamma mia pizzoccheri quanto sono buoni chi se la ricorda la signora in giallo direttamente dal centrale del lago Nambino queste sono le squadre Carreto Life Nocciolina Giulia Andrea stavo 8 attenzione sta pieno anche di pubblico piano amo si tocca dietro sono fuori c'è qua un piccolo grande coccodrillo che si chiama Adolfo eccolo saluta ciao che è partito dal lago Montagnoli per venire qua i genitori sono molto contenti di questa cosa è vero e io ho regalato il cappellino eccolo sta pieno dottore buonasera buonasera un signore che si è operato di cataratta questo signore ah questo signore lei è il signor nonno Faustino si si stiamo siamo venuti a controllare se l'operazione è andata tutto bene quella che ha fatta la cataratta andate a fare la visita sulla destina ora gli faremo una visita speciale se abbiate la pazienza un attimo colleghi ottimi signore questa è la prova generale se l'operazione è riuscito o meno ora vediamo mi dica quanti sono questi 50.000 50 50 euro perfetto ed ora la seconda operazione quanti sono questi dica quanti sono ho testa di cazzo modere le parole quanti sono questi sono 100 euro ma sono falsi allora lei l'operazione è perfettamente riuscita l'operazione è riuscita lei è tornato ho visto 10 è solo che c'è un problema è morto il Cicillà il Cicillà il Cicillà il Cicillà è vivo c'è paracazzate pensate dove è il vostro paracazzate comprateci questi comprateci le pasticche con questi come mi servono comprateci un cacchio di agra queste sono falsi queste sono falsi smettetela ne spacciate spacciatore ecco qua indovinate dove sono comunque i merletti che dice nonno per i Simpson sono quelli che hanno le cappocce con i merletti eccoci qua tutto chiuso concerti dei Gregori se lo sapevamo se l'avessimo saputo davvero? se lo sapevamo se lo sapevamo tutti zitti eh eh c'ho la fame mi mangio solo questo si 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 buonanotte a tutti una semplice storia per darvi la buonanotte per ringraziarvi sempre dei vostri stupendi messaggi durante il giorno dei vostri video dei vostri fa dei vostri si 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 è venerdì bello 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 ragazzi sono sempre felice siete unici numeri uno buonanotte che è venerdì che è venerdì Grazie.